ciao ragazzi bentornati sul mio canale finalmente dopo tanto tempo ritorno a girare vlog spero che stiate bene oggi vi porto a pranzo con me in un ristorante che si trova in zona fortuenze a roma vi farò vedere quella mappa seguiteli ciao Ragazzi stiamo aspettando il primo piatto, io ho ordinato una carbonara, la mia amica ha i bici e ha proprio diciamolo, è stata bellissima. Buonissima, fa caldissimo ragazzi, fa veramente caldo, però questa pasta merita in qualsiasi periodo dell'anno, la carbonara è sempre un'ottima idea. Facciamo un giro ragazzi, vediamo un po' il giardino di questo ristorante che è veramente molto carino, guardate la struttura, ci sono vari ambienti, noi abbiamo mangiato all'esterno però c'è anche l'interno. Devo dire, il menù è ricco soprattutto sul lato della carne, primi come avete visto io ho preso una carbonara, la mia amica è una matriciana, devo dire siamo arrivati su questo spazio, abbiamo preso anche un strumento ad accompagnare il tutto, anche se fosse un vino rosso era l'ideale avendo scelto piatti con carne, però visto l'orario forse il vino rosso non era la scelta migliore. ragazzi eccoci, la mangiata è stata veramente eccezionale, è venuto un gran sonno dopo, dopo mangiato, abbiamo fatto una piccola passeggiata lì nel giardino che vi ho mostrato, meraviglioso del ristorante, devo dire ci è piaciuto molto, la location molto carina, anche il servizio buono e anche ovviamente le portate che abbiamo assaggiato, tutto molto buono, quindi devo dire da 1 a 5 e gli do un 4, rimaniamo nella media, lì do un 4 al ristorante, 4 stelle e adesso siamo al centro commerciale a fare un po' di spese, ultimiamo gli ultimi giri e poi rientriamo stasera. Musica Ragazzi stiamo tornando a casa Devo dire è abbastanza presto Ancora sono le 6 del pomeriggio Ma spero che mi riuscite a vedere Ho messo il parasole E fa troppo caldo fuori Diciamo che il centro commerciale Un po' ci ha salvato dal caldo Però Devo dire che Roma è infuocata In questo periodo dell'anno Maggior ragione che si avvicina l'estate Devo dire quest'anno più del solito Più degli anni scorsi calda E ci vediamo a casa Eccoci a casa ragazzi Una bellissima giornata Abbiamo camminato tantissimo Sia sotto il sole Sia appunto al riparo al centro commerciale Adesso sto gustando uno yogurt Freschissimo ragazzi Questo è uno yogurt da bere Meraviglioso Alla banana E devo dire forse è uno dei miei preferiti E è proprio quello che ci voleva adesso Molti forse staranno bevendo alcol A fare un po' aperitivo Io invece con lo yogurt Devo dire vado abbastanza d'accordo E quindi È perfetto per quest'ora della giornata Che il sole inizia un po' a calare Quindi raccolgo le ultime energie E mi metto subito all'opera Dovrò semplicemente Ultimare delle lezioni che ho già impostato Che avrò durante la settimana E poi ovviamente se mi vengono idee Io durante la settimana Ecco faccio delle modifiche Aggiungo Tolgo E mi diverte molto questo processo Di creazione proprio della lezione E quindi ragazzi Io vado ad accendere il laptop Vi ringrazio tantissimo Per avermi seguita come sempre E ci vediamo al prossimo vlog Ciao Ciao